Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Il fronte di correnti fresche nordatlantiche sta avanzando verso est e si notano gli effetti già sulle regioni settentrionali che infatti sono interessate da forti temporali un po' su tutti i settori. Al centro-sud invece aria molto calda insiste su tutte le regioni accompagnata anche da una copertura del cielo estese persistente che favorisce una percezione del caldo ancora più accentuata. Domani però le correnti più fresche occidentali invaderanno anche le regioni centrali per poi giungere tra venerdì e sabato anche al sud. In Abruzzo la giornata di domani dovrebbe essere irregolarmente nuvolosa ma con tendenza a miglioramento con il passare delle ore. La ventilazione da sud occidentale tenderà a divenire entrosera settentrionale ed il mare sempre calmo o quasi calmo. Le temperature minime della notte saranno comprese tra 17 e 25 gradi e le massime di domani in diminuzione seppur ancora piuttosto elevate con valori compresi tra 28 e 32 gradi. Una buona serata a tutti!